Cosa si nasconde dietro le parole di Mirko Brunetti che hanno turbato gli inquilini? Scopriamolo insieme. E se trovi il video intrigante, non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un like, per non perderti nessuna svolta di questa avvincente storia. Ma cosa ha detto davvero Mirko per scuotere così tanto i concorrenti? È solo un gioco di strategia o c'è qualcosa di più? Le parole di Mirko Brunetti hanno scosso le fondamenta della casa. Ci odiano fuori da qui? Si chiedono gli inquilini, turbati e confusi. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha lanciato una bomba emotiva. Con le sue parole, ha seminato il dubbio e l'inquietudine tra i concorrenti. Fuori dalla casa ci odiano? È la domanda che ora legge in ogni angolo. Mirko, ex concorrente di Temptation Island, ha rivelato di sentirsi fortunato a essere fuori dal gioco, dopo tutto quello che sta succedendo nella casa. Questa affermazione ha lasciato i geffini perplessi e preoccupati. Credi che Mirko abbia ragione nel dire che fuori dalla casa ci odiano? Commenta la tua opinione. Si sono radunati in giardino, cercando di capire il vero significato dietro queste parole. Letizia Petri si interroga. Gosi ce n'è visibilmente scossa, mentre Greta Rossetti cerca di calmare gli animi. Monia La Ferrera esprime il timore che forse, agli occhi del pubblico, possano essere visti in maniera negativa. Il dubbio serpeggia. Cosa pensa davvero il pubblico di loro? Pensi che le parole di Mirko cambieranno il corso del gioco? Condividi il tuo punto di vista. Se ti appassiona il mondo del GF, premi like e unisciti alla nostra community con un'iscrizione. Queste parole di Mirko Brunetti hanno aperto un vaso di Pandora pieno di dubbi e incertezze. Come si evolverà la situazione? Gli inquilini riusciranno a superare queste paure e a trovare una nuova serenità? Non perdete i prossimi aggiornamenti e ricordate di iscrivervi al canale e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Grazie per averci seguito. Alla prossima!